Ciao a tutti! Oggi video richiestissimo su cosa c'è nella mia beauty bag da viaggio Vi avevo fatto già il video cosa c'è nella mia borsa mare e sicuramente vi farò poi il video di cosa metto in valigia Oggi però vorrei farvi vedere appunto tutti i prodottini che porto con me in vacanza Cerco sempre di contenermi, in realtà ho il problema inverso a volte Nel senso che tante volte ho paura che poi mi servirà assolutamente quella cosa e io non l'ho portata Quindi se vedete troppi prodotti sgridatemi perché devo imparare a essere più selettiva Comunque a parte gli scherzi cerco sempre di portarmi dietro le cose che penso mi possano servire E poi la maggior parte delle volte penso che finisca così con tutti Nel senso che poi si finisce per non averle utilizzate, anzi per utilizzare sempre le stesse cose Però ogni anno ci ricasco Comunque non voglio perdermi troppo in chiacchiere e passiamo a vedere cosa c'è nella mia beauty bag da viaggio Mi porto sempre dietro questa pochettina molto semplice, rosa con il fiocchettino giallo e la scritta E' una delle pochettine che ho preso dal sito di Vanessa, magico trucco Allora, mi porto il piegaciglia e mi porto questo qua di Sephora perché ho paura di rovinare quello MAC Poi porto l'illuminante questo qui di Essence che è il Big Bright Eyes Questo blush, vado un po' in ordine sparso come trovo le cose Questo blush di Chanel che è il brush in crema E questo blush mi piace tantissimo perché comunque dà questo effetto molto lucido che sta bene con la bronzatura Poi mi porto la Bonjour Soleil di Too Faced che è questa palettina E' l'unica palette che mi porto perché ha dentro tutti questi colori E questi qua riesco ad usarli anche come ombretti ma in realtà anche questo perché è un colore matte E' fantastico e ve ne ho già parlato tantissime volte Poi mi porto questo ombrettino di Catrice che è un ombrettino matte che utilizzo per la piega dell'occhio Ed è il numero 350 e ve ne ho parlato anche nel video sui miei preferiti di Catrice Poi mi porto questo ombretto in mousse di Wicon che è il mio preferito Questo qui è il numero 11 ed è praticamente questa mousse color champagne bellissima Che mi serve come base e va benissimo per i trucchi semplici che sto realizzando ultimamente E da usare insieme a quello mi porto questo qui MAC Che è il Lorelei della collezione appunto questa qui con il packaging tutto acquatico Poi mi porto la pinzetta per le sopracciglia Questa qui è la mia preferita di Essence La mia CC Cream di Clinique che uso sia come prodotto per proteggermi dal sole Che come appunto CC Cream Poi allora mi porto il Relentlessly Red di MAC Quindi questo rossetto bellissimo con cui vi ho fatto una testa così e mi fa impazzire Ancora labbra mi porto Lime di Pupa Questo qui è il numero 107 che io adoro ed è questo bellissimo color labbra Mi serve almeno avere un nude o comunque un color labbra Poi il Touche Eclat di Yves Saint Laurent che è questa penna illuminante Che conoscete tutti benissimo Sempre per il viso mi porto anche questo campioncino di Eclamati Sim di Givenchy Poi mi porto il Primer di Urban Decay però questo qui nella versione piccolina Quindi il Primer Potion piccolino Il Cancella Età di Maybelline che è il mio correttore preferito E l'altro mio correttore preferito che è questo qui di Laura Mercier Poi mi porto un'altra base che è questa qui di Kiko La Long Lastic Stick Eyeshadow Pencil nel colore 45 che mi avete visto usare tantissimo L'eyeliner e sto usando questo qui di Kat Von D che mi hanno regalato e portato dall'America Quindi lo sto testando e poi vi farò sapere Mi sembra molto valido soprattutto il pennino È molto particolare rispetto agli altri pennini che ho provato Poi ovviamente mi porto la mia matita per le sopracciglia di Catrice Insieme dovrebbe esserci al Brow Drama Che è appunto il mascara con cui fisso le sopracciglia E ancora mi porto un sacco di prodotti labbra Mi porto comunque anche il mascara ovviamente E ho diverse mini sights Quindi di mascara mi porto questo qui che è il Big Fatty Mascara di Urban Decay Ed è una mini sights E il Dior Show Iconic che adoro E è quello con lo scovolino Fatto in questo modo quindi Eccolo qui, fatto in questo modo e lo amo Poi mi porto il rossetto AIM Questo qui è il 405 Anche di questo vi ho fatto una testa tanta Quindi lo conoscete ormai a memoria E poi è quasi finito Mi porto la perfettina di Neve Cosmetics Perché comunque con tutti i rossetti molto colorati e molto forti che uso Preferisco sempre applicarla sul contorno labbra Questo lip cream di NYX che adoro Ed è in questo color bellissimo rosa Ogni volta che lo indosso mi fate un sacco di complimenti Poi la mia matita nera di Kiko Questa qui è l'Automatic Precision Eye Pencil Poi il Paint Pot di MAC E questo qui è il mio solito Painterly E ancora prodotti labbra Questa matita di Neve Cosmetics che adoro Questa qui è la Fenicottero Ed è questo bellissimo fucsia Adoro questa matita Mi fa impazzire Poi vabbè È fucsia e fa anche da base al 405 Mi ci trovo bene ad abbinarli E l'ultimo prodotto che mi porto È questo color burst di Revlon Matte ovviamente Ed è questo bellissimo rosa tenue E questo qui in particolare È il numero 205 Quindi questa è tutta la mia pochettina Che è vuota E questa invece è la pochette In cui porto dietro i pennelli È una pochette che avevo ricevuto in regalo Con un set di Sonia Cashew Che mi piace molto Per portare appunto tutti i pennelli Allora Come pennelli mi porto Il pennello da blush della Real Techniques I pennelloni quelli larghi Per applicare l'illuminante Un pennello a lingua di gatto di Kiko Mi porto sempre due pennelli a penna Questo qui è quello della linea normale Questo invece era di una linea limitata Infatti è leggermente più grande dell'altro Però sono tutti e due ottimi Un altro pennello MAC Sempre per stendere l'ombretto E poi mi porto questo pennellone Della Bare Minerals Che mi serve per applicare le terre e le polveri Il pennellino angolato Questo qui è di Sedona Lace Un altro pennello di Sedona Lace Per sfumare Questo qui in realtà lo utilizzo Per applicare l'illuminante Un altro pennellino da blush Di Sedona Lace Che però appunto utilizzo Per fare il contouring O comunque per l'illuminante E per finire Questo pennellino da sfumatura Che è simile a quello di MAC Però in realtà è quello di Zoeva Il Soft Definer E la mia pochettina dei pennelli È vuota Quindi questo era il contenuto Della mia beauty bag da viaggio Spero che il video vi sia stato utile E come sempre nei commenti Fatemi sapere anche voi Quali sono i vostri prodotti indispensabili E che cosa c'è nella vostra beauty bag da viaggio Se abbiamo qualcosa in comune Come sempre quindi tutto Nei commentini qui sotto Io vi mando un grosso bacio E noi ci vediamo al prossimo video Ciao! Ciao!